Oh, sono a riprendere, si è avuto dei Martino vicino a me, so. Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 117 anni, è il volo del sicuro dell'agio, la nostra scuola, oi! Lungo 11! Lungo 11! Lungo 11! E' il volo del sicuro dell'agio! Lungo 11! Lungo 11! Sono messa a filio ad giù, stando a delegato. Oyyy! Oyyy! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Io vi auguro per il futuro tutto quello che meritate. Veramente grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.